Ovviamente siamo molto soddisfatti perché abbiamo fatto una partita molto solida e credo siamo stati anche molto coriacei. Credo che per gran parte delle 40 minuti abbiamo fatto anche una buona palla canestro. Noi avevamo un'idea ben precisa prima della partita, cioè togliere loro la caratteristica principale che hanno, cioè il tiro da tre. Ovviamente loro avrebbero tirato da tre perché nelle corde dei loro giocatori l'idea è di non farli tirare mai liberi, che sembra una malità ma non lo è. Siamo riusciti spesso e volentieri, infatti oggi hanno avuto una percentuale bassa da tre che ci ha sicuramente favorito. Mi hanno sofferto un pochino a rimbalzi ma loro strutturalmente sono più grossi di atletici di noi e quindi c'era poco da fare. Secondo me in attacco abbiamo giocato molto bene perché siamo sempre riusciti quasi sempre a non fermare la palla e a trovare uomini onestamente spesso liberi. Direi che abbiamo meritato di fronte a un organico veramente impressionante per la Serie 2. C'è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Qual è il potenziale di questa squadra? Cosa può fare ancora? Viviamolo oggi, guarda, se no ci scottiamo e basta. Noi prima della partita abbiamo detto grande fiducia perché stiamo andando bene ma con grande umiltà. È quello che dobbiamo continuare a fare perché noi stiamo vincendo ma la posizione di classifica rimane non brillantissima. Adesso abbiamo un altro scalino impegnativissimo che è utile in casa però giocando così io ho buone sensazioni e ho fiducia.